Ciao Lodo, vieni a fare una partitina? No, guarda, sono stanco. Ma sai, anche io ero come te. Poi ho scoperto pillole di movimento e non sto più ferma. E cosa sono? Beh, vieni con me che te lo faccio vedere. Buongiorno. Buongiorno, può dire al mio amico Lodo cosa sono le pillole di movimento? Certo, pillole di movimento è un'iniziativa di WISP nazionale per fare attività fisica gratuitamente per un mese in palestre e piscine e volto a contrastare la sedentarietà. Da dieci anni l'abbiamo a Bologna, quest'anno per la prima volta in 32 città italiane sarà presente in tutte le farmacie. Beh, bene, allora io ne posso prendere una per me e una per i miei amici. Io la prendo, che quelli stanno sempre sul divano. Immagino. Ciao. Grazie. La vita di artisti non è uno stesso segreto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.